Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Mirko e questo è un nuovo video. Perdonatemi per l'inquadratura che continuo a cambiare da video a video, ma sto ancora cercando di capire quale preferisco e quindi sto facendo delle prove e niente, troveremo una stabilità tra poco, speriamo. Tralasciando queste piccolezze, eccoci qui a parlare delle prime letture fatte nel 2020, quindi questo è il wrap up delle letture di gennaio, un mese, quello di gennaio, che devo dire è stato piuttosto bilanciato perché abbiamo avuto delle bellissime letture, delle letture normali e delle letture invece molto, molto deludenti per cui provo davvero una sofferenza nel parlarvene davvero particolare, ma andiamo per gradi e cominciamo appunto da quello che è stata la mia prima lettura del 2020. Interrompo per qualche secondo il video perché volevo annunciarvi che domenica 23 febbraio sarò a Roma al Valico Festival, un evento completamente dedicato al fantasy e ai libri fantasy, quindi saranno presenti diversi autori, traduttori e editori. Ci saranno panel e eventi organizzati e tra cui uno dedicato appunto ai migliori libri fantasy dell'ultimo decennio dove interverrò appunto io insieme a Gabriella di Fangorello with Books, Sara di Orange Dinosauror, Giada di Ridic and Save Us e Chantal di Fairy with Hobbit Fit, quindi vi aspettiamo, il panel sarà alle 12, andate sul sito per tutte le varie informazioni, quindi ci vediamo domenica, questa domenica 23 febbraio a Roma. E partiamo quindi dalla Fabrica delle Bambole di Elizabeth McNeill, edito in Audi, ed è un libro che è successo un po' per caso perché ero in libreria, stavo un po' girando tra gli scaffali, tra le novità eccetera eccetera, e i miei occhi appunto vengono attirati dalla meravigliosa copertina di questo libro, questo celeste che spicca, questa immagine davvero molto molto bella che mi ha attirato immediatamente. Quando ho iniziato questo libro avevo un'idea totalmente diversa di ciò che sarebbe stata questa lettura e mi sono ritrovato a leggere un libro che mi ha davvero sorpreso e mi ha anche profondamente turbato in alcuni punti. Sta di fatto che La Fabrica delle Bambole è stato un libro che non mi aspettavo, perché non mi aspettavo semplicemente di trovare determinati temi trattati all'interno di questo libro che è un atto conclusivo. Diciamo che è stato tutto ciò che non mi aspettavo, ecco. La Fabrica delle Bambole è ambientata a Londra nel 1851, quindi il periodo della grande esposizione. La grande esposizione è stato un evento enorme, importantissimo per la storia, fortemente voluto da il principe Albert. Un evento appunto che è centrale in questo romanzo e in cui appunto si muove un po' tutta l'azione, perché la nostra protagonista è Iris. Questa ragazza che insieme alla sua sorella gemella Rose, lavorano in una bottega di bambole di ceramica, quindi dipingono queste bambole di ceramica e il loro futuro appunto non sembra essere dei più felici. Il loro destino sembra essere incatenato a questa bottega. Tutti i sogni e le loro speranze quindi sono un po' soffocati da questa vita mediocre e poco soddisfacente. Da una parte quindi abbiamo Rose, una ragazza deturpata dal bagliolo e questo fatto l'ha resa comunque una persona molto diversa, particolarmente insoddisfatta e un'insoddisfazione che rigetti in qualche modo su sua sorella Iris. Sono le due legate ad un rapporto, diciamo, di sentimenti, fatto di sentimenti contrastanti. Iris non rispetta la canonicità dell'epoca della ragazza ottocentesca, ha questa clavicola che in qualche modo va a creare un disquilibrio per quanto riguarda il suo aspetto fisico, ha una passione sfrenata per la pittura che però purtroppo non può coltivare perché è impossibilitata da questo lavoro, da questa padrona che appunto è tutto che for simpatica. E quindi questo sogno di diventare pittrice, di in qualche modo emanciparsi, resta purtroppo solamente un sogno. Fino a quando però non conosce Louise Frost, questo pittore che fa parte della confraternita dei Pre-Raffeliti, una confraternita appunto di pittori che sono in qualche modo vezzeggiati dalla critica, non vengono apprezzati in nessun modo. Louise però vede in Iris qualcosa di diverso e quindi gli propone di diventare la sua modella per un lavoro, per un dipinto che sta facendo, proprio per l'esposizione. Iris inizialmente non è ben disposta a fare questo lavoro perché lo vede come socialmente discutibile, le persone potrebbero parlare. Quando Louise gli offre delle lezioni di pittura in cambio e soprattutto molto molto denaro, Iris si vede costretta ad accettare. Questo incipit è quello che potrebbe sembrare un inizio di una classica storia d'amore nella Londra dell'Ottocento, ma c'è un'altra storia che si intreccia a quella di Iris, ovvero quella di Silas. Silas è una persona molto particolare in paio di animali e sviluppa verso Iris un'ossessione particolare che poi, diciamo, smuove un po' tutta l'azione. Questo è un romanzo che, come vi ho detto all'inizio, è stato qualcosa di inaspettato perché inizialmente parte con tutto ciò, con tutti quegli elementi che avevo immaginato di trovare in questo libro. Quindi è una storia di emancipazione, in qualche modo ovviamente l'emancipazione di Iris che vuole in qualche modo essere più di quello che è, quindi a diventare una pittrice affermata in una società in cui le donne vengono relegate semplicemente alle buone maniere, all'ora del tè e a poco altro. Una storia d'amore, perché no? Una storia che parla di arte, questo ovviamente c'è all'interno di questo libro, ma poi succede tanto altro. È una storia che parla di ossessione, è una storia molto inquietante, tutto ambientato in questa Londra ottocentesca che si sente davvero moltissimo e viene descritta con una certa enfasi da parte dell'atrice. Ci sono questi paesaggi appunto luridi, molto sporchi, fumosi, la tipica Londra dell'Ottocento che io adoro particolarmente. Ci sono dei punti all'interno del libro e soprattutto verso la parte finale, in cui l'atrice, diciamo, lascia poco all'immaginazione, creando degli scenari davvero molto crudi, delle scene davvero molto inquietanti e molto disturbanti, che avrei in qualche punto decisamente anche fatto a meno. Sono forse anche un po' troppo all'interno di una storia che inizialmente mi ero immaginato completamente diversa. Le situazioni che in un certo senso mi hanno creato parecchi disturbi. Ho fatto una certa difficoltà nel leggere determinate scene che hanno una crudezza quasi spietata e lasciano davvero poco all'immaginazione. Un libro che comunque mi è piaciuto davvero tanto. Ho particolarmente apprezzato l'ambientazione, i personaggi sono molto particolari, lasciano sicuramente il segno, non sono quei personaggi che ti rimangono impressi. Sicuramente sono apprezzabili, come Albi, che è questo ragazzino mendicante che gira per i vicoli sporchi di Londra, lui altrettanto sporco, sdentato, e si guadagna da vivere cercando degli animali morti per darvi a Silas, appunto, per farli imbalsamare. Personaggi in cui, diciamo, vengono un po' riassunte tante speranze, speranze che purtroppo in una società come quella di Londra nell'Ottocento comunque vengono in qualche modo soffocate dalla società, appunto, da quello che è la società e da quello che è il canone della società. Un libro molto particolare che tendo a consigliarvi, nell'andare avanti nella storia, diventa sempre più claustrofobica come situazione, ma comunque l'ho apprezzato davvero tanto. È stata sicuramente una bellissima lettura e un modo davvero strano per iniziare questo 2020, quindi ve lo consiglio assolutamente. Proseguiamo con una lettura di cui vi ho già parlato, sicuramente la migliore in questo gennaio 2020 e uno dei miei libri preferiti. L'ho davvero adorato in ogni sua piccola parte. Ve l'ho già parlato in una recensione apposita che vi lascio nelle schede. E si tratta, appunto, di The Poppy War, di R.F. Kuang, un libro meraviglioso, veramente meraviglioso che mi ha regalato tantissimo. Si tratta, appunto, di un fantasy per adulti, ovviamente, ambientata in un impero che ha delle fortissime, appunto, ispirazioni cinesi e giapponesi, comunque la cultura cinese in generale. In modo particolare, l'idea di The Poppy War si sviluppa intorno a dei fatti storici realmente accaduti, come la Seconda Guerra sino-giapponese o la Guerra dell'Oppio. E vediamo, appunto, la nostra protagonista, Rin, che è un'orfana, entrare in questa accademia militare, un'accademia, appunto, che si occupa di addestrare i ragazzi più talentosi dell'impero per farli combattere. Rin scoprirà di avere, comunque, dentro di sé un potere nascosto, un potere davvero molto, molto particolare collegato all'arte dello sciamanismo. La renderanno protagonista di una vicenda davvero molto, molto violenta, molto cruda. Si parla di tantissimi temi come il razzismo, la discriminazione, il genocidio, dei temi sicuramente molto forti che la Kuang va a toccare con estrema delicatezza per quanto è possibile, visto che The Poppy War è un libro davvero molto, molto violento. La violenza, la cattiveria vanno un po' a guidare tutta quanta la storia. Rin è un personaggio che mi ha conquistato davvero tanto, è un personaggio che ha una evoluzione molto particolare e si divide in tre parti e sono tre parti molto, molto diverse in cui vediamo una Rin molto diversa, è un personaggio estremamente grigio che fa delle scelte moralmente discutibili sotto tanti punti di vista, scelte con cui però Rin deve venire a patti, scelte che in qualche modo vanno a decretare il suo destino e quelle delle persone che gli girano intorno. Sto a dirvi altro perché ne ho fatto una recensione di tipo 20 minuti quindi lì ho detto tutto quello che penso di questo libro. Sicuramente è una lettura che ho apprezzato davvero, davvero tanto, una delle più belle fatte negli ultimi tempi. Anche in Italia per Oscar Vought è stato annunciato e spero che arrivi negli scaffali più presto perché è una lettura davvero, davvero incredibile che vi consiglio tantissimo, meraviglioso. Poppy War mi ha dato la svolta a gennaio, decisamente mi ha dato la svolta, è stato il libro più bello letto in questo mese. Spero che la maglia non è voluta ma a gennaio abbiamo anche una lettura inerente a Star Wars ovvero Last Shot di Daniel José Older. Questo è uno dei libri che fanno parte dell'universo espanso di Star Wars, un universo immenso, un universo che come tutti sappiamo parte dalla cinematografia, quindi dai film di Star Wars e poi si va a gettare in altri media come appunto i libri, videogiochi, serie tv, serie animate e tanto altro. Con l'uscita del nono film su cui ho le mie opinioni parecchio negative e vorrei dimenticare tutto e il fatto che fa parte del canon mi distrugge l'anima. Comunque devo dire che questo film mi ha ributtato nuovamente nell'ossessione di Star Wars cosa che è sempre appunto quando esce qualcosa l'esposizione che si ha è sicuramente maggiore quindi sono ricaduto ancora nuovamente nel baratro che è Star Wars un baratro che come vi ho detto è enorme e quindi mi sono andato un po' a incuriosire per quanto riguarda i vari libri pubblicati in Italia da Star Wars molti dei quali appunto pubblicati proprio da Oscar Vault è stato proprio mandato da Oscar Vault questo libro e ho deciso di partire da questo questa è stata la mia iniziazione ai libri di Star Wars non avevo mai letto niente temporalmente Last Shot va a posizionarsi tra Il ritorno dello Jedi e Il risveglio della forza quindi tra l'ultimo film della trilogia originale e il primo film della terza trilogia in breve Last Shot è un'avventura di Han Solo ovvero uno dei miei personaggi preferiti dell'intero universo Star Wars e Lando una coppia appunto che ritorna in questo libro con una nuova avventura che ho apprezzato decisamente tantissimo mi è piaciuto da impazzire è un libro sci-fi quindi ovviamente abbiamo galassie sconfinate scontri tra navicelle blaster creature particolari che appunto caratterizzano il mondo di Star Wars con il loro modo di essere la loro parlata la loro caratterizzazione li rendono sempre personaggi specie davvero davvero uniche non è stato tanto l'avventura in sé che vanno ad affrontare Han Solo e Lando che ho apprezzato in questo libro perché è diciamo una storia abbastanza lineare hanno questa missione da portare a termine e cercano di riuscire a farlo ma quello che mi è piaciuto sono più che altro i sottintesi in questo libro sicuramente ho apprezzato tanto il personaggio di Lando che è un personaggio che ho sempre apprezzato ma che conosco davvero poco e in questo libro molto più di Han Solo Lando viene in qualche modo sviluppato un po' di più ho davvero adorato il suo personaggio e l'ho apprezzato tantissimo adoro il rapporto che c'è tra lui e Han Solo e Han Solo invece è un personaggio che forse rimane un po' più nell'ombra rispetto a Lando è un personaggio che decisamente conosciamo che abbiamo visto tantissime volte in tantissimi modi diversi qui ci viene fatto vedere sotto anche una luce completamente diversa che devo dire mi ha regalato parecchie gioie però vediamo Han Solo come padre come figura paterna di Ben Solo ovviamente figlio di Han Solo e lei organa è stato davvero molto molto interessante vedere lo struggimento di Han Solo nei confronti di questa cosa Han è un uomo che forse non si sente ancora pronto ad essere padre non sa come affrontare questo nuovo ruolo nonostante sia un personaggio eroico all'interno della galassia affrontato minacce incredibili pericolosissime questo nuovo ruolo non lo sente completamente suo non sa come gestire tutta questa cosa che è qualcosa di veramente molto molto grande per lui è stato davvero interessante vederlo sotto questo punto di vista mi piacerebbe tantissimo avere qualcosa del genere cioè un libro una storia in cui vediamo proprio Han e Leia approcciarsi a Ben a questo figlio e sarei molto curioso di leggerlo lo leggerai immediatamente comunque questo last shot mi ha davvero divertito tantissimo una lettura che ho apprezzato tanto che vi consiglio se amate appunto Star Wars ovviamente se non conoscete l'universo di Star Wars mi sembra un po' inutile diciamo leggerlo perché vi perdete parecchie cose e sicuramente si parte dal presupposto che si conoscano questi personaggi quello che hanno fatto prima e il loro background se conoscete Star Wars sicuramente è una lettura che vi consiglio bellissimo mi è piaciuto tantissimo non vedo l'ora di leggere altro non so su cosa buttarmi ma comunque questo 2020 sarà il disperato recupero dei libri dell'universo di Star Wars davvero una lettura che vi consiglio tantissimo ok fino adesso abbiamo riso scherzato ci siamo divertiti siamo stati particolarmente soddisfatti da letture fatte nel gennaio 2020 e adesso arriva il tasto dolente la parte dolente di questo video sicuramente una parte molto difficile per me perché sto per parlarvi di due libri che mi hanno davvero davvero oh mio dio non so nemmeno come definire il mio stato d'animo nei confronti di questi due volumi il libro di cui vi sto per parlare è un libro che mi ha deluso tantissimo non riesco a salvare praticamente niente e sto parlando del re delle ceneri di Raymond Fist primo libro del ciclo dei Fireman un libro pubblicato in Italia da Fanucci a fine 2020 un libro su cui avevo alte aspettative forse me l'avete già sentito dire ma comunque questo è un libro che io appuntavo da parecchio tempo perché l'avevo notato al Yalc di due anni fa se non sbaglio ma poi per la sua mole l'avevo un attimo accantonato ma comunque l'idea di questo romanzo mi era rimasta particolarmente impressa molto curioso mi sarebbe piaciuto tantissimo leggerlo e quando la Fanucci ha annunciato che avrebbe pubblicato il libro ero davvero molto felice quindi me l'hanno mandato l'ho letto e è andato bene inizialmente perché la storia mi stava prendendo ero coinvolto non vedevo l'ora di sapere che cosa sarebbe successo dopo poi ho cominciato piano piano a notare delle cose che non mi stavano piacendo e andando avanti è peggiorato sempre di più si è gravata sempre di più questa situazione ma partiamo dall'inizio di che cosa parla questo libro il libro parte con questo prologo davvero bellissimo che io ho semplicemente adorato e quando ho finito ero gasatissimo ci viene mostrata una scena dal passato una scena fondamentale per la storia di questo libro viviamo in un regno diviso da cinque dinastie quindi cinque sovrani che si contendono il potere ma c'è qualcuno che tradisce e uno di questi uno di questi sovrani viene ucciso e con lui viene uccisa anche tutta la dinastia di chioma di fuoco quella dinastia che prende il nome dai loro capelli appunto rosso fuoco che viene sterminata completamente ma questo è ma questo è quello che tutti pensano perché in verità qualcuno che fa parte della famiglia della chioma di fuoco è stato tratto in salvo ovvero l'ereda al trono e ci spostiamo quindi nel presente dove appunto Atu viene addestrato come apprendista spia assassino ignaro di quello che è la sua vera discendenza ignaro dell'eredità che ha tra le mani e di cui è inconsapevole Atu è cresciuto in questo contesto appunto molto particolare difficilmente controlla questa rabbia che sembra pronta a esplodere da un momento dall'altro si è fatto la sua cerchia di amici partecipa a queste missioni ma sente di appartenere a qualcosa di diverso che c'è qualcosa di diverso in lui dall'altra parte abbiamo un personaggio con un background completamente diverso ovvero abbiamo Declan questo ragazzo che è un apprendista presso un fabbro molto famoso molto importante e Declan ha un segreto molto importante ovvero è uno dei pochi a saper in qualche modo forgiare modellare l'acciaio dei re ovvero un acciaio con cui vengono create queste spade praticamente indistruttibili Garn che è il continente in cui viene ambientata tutta quanta la storia sembra appunto vivere un periodo di pace di relativa pace però c'è qualcosa che si sta muovendo infatti il re Lodovico che è uno dei quattro sovrani di Garn e la chiesa dell'Uno in questo culto molto particolare si stanno unendo per cercare appunto l'ultimo discendente della Chioma dei Fuochi perché la notizia che qualcuno da quella guerra di tanti anni prima è stato tratto in salvo sta lentamente salendo in superficie quindi il territorio di Garn sembra essere appunto nuovamente scenario di una guerra futura questo è un po' il risunto di questa storia ora io non so da dove partire come vi ho detto partiamo da questo prologo che io ho trovato davvero molto molto bello l'avevo davvero amato alla follia ero completamente all'interno del libro Fist in qualche modo con questo prologo riesce a cattivare il suo lettore perché va a inserire degli elementi che possono andare a creare una storia futura davvero molto molto interessante e l'inizio è così conosciamo Atu che è questo ragazzo appunto ignaro di quello che è la sua vera eredità che ha questa rabbia incontrollabile che ha questi due compagni di avventura che appunto sono delle colonne importanti per lui che in qualche modo vanno a controllare quello che è la sua rabbia e dall'altra parte appunto abbiamo invece Declam questo fabbro aspirante fabbro il fatto è questo quello che io vi ho detto del libro che è la trama che viene scritta quindi la trama che viene proposta al lettore per invogliarlo alla lettura è semplicemente tutto quello che troverete all'interno di questo libro niente di più niente di meno il libro non progredisce mai non c'è mai qualcosa in più che veniamo a sapere all'interno di questa storia dal punto di vista di Ato per esempio è qualcosa di tremendamente noioso perché inizialmente ci sta ci vengono raccontate le sue debolezze i suoi punti di forza i rapporti con i suoi amici il contesto in cui appunto è stato inserito ovvero di essere istruito come spia assassino quindi deve affrontare determinate missioni un po' come funziona tutto questo contesto ma poi la cosa viene ripetuta e ripetuta e ripetuta ci sono dei concetti che l'autore mette all'interno dei capitoli costantemente ad esempio abbiamo il gruppo di amici di Ato che è formato da Dante che è il suo mio amico e Ava questa ragazza di cui ovviamente Ato è innamorato e che cosa succede? viene costantemente in un capitolo si e pure quell'altro ripetuto il fatto che Ava era fortissima che era veramente abilissima ma che Ato fosse più veloce di lei e questo è una cosa che ok va bene ci sta un'informazione interessante ma me la ripeti in continuazione ho capito il concetto andiamo avanti ma si vede proprio che Raymond Fist non sapeva che cosa scrivere in questi capitoli cioè c'è una ripetizione costante di tanti elementi che conosciamo che abbiamo appreso che non c'è bisogno di ripetere perché sono noiosi e non c'è mai un proprio dire all'interno della storia mai per nessun motivo e soprattutto la cosa secondo me più sbagliata di questo libro è il fatto che il lettore sa troppo il lettore sa tutto al contrario di Ato il nostro protagonista il lettore sa qual è il suo destino sa chi è in verità quindi tutte le domande che Ato si pone su chi è veramente su da dove deriva questa rabbia e tutte le domande appunto che si pone durante il libro il lettore le sa già quindi la scoperta di qualcosa di nuovo non avverrà mai non avviene né dal punto di vista di Ato né dal punto di vista di Declan di qualsiasi altro personaggio non c'è mai qualcosa di nuovo all'interno del libro viene tutto ripetuto il lettore sa troppo perché quello che vi ho detto all'inizio ovvero che la trama che vi ho raccontato è tutto il libro è così è semplicemente così solo verso le ultime pagine verso le ultime pagine ci sono delle piccole cose che vengono inserite che appunto saranno sviluppate nel secondo libro è come se l'autore ed è una cosa che io odio davvero tanto e che trovo inutile e che non ha senso è come se volesse appunto tenere la parte figa la parte bella quella davvero bella per la fine per i prossimi libri ed è una cosa che non ha senso perché appunto se tu mi costruisci un primo libro in questo modo quindi rendendolo noioso rendendolo ripetitivo senza punti di svolta senza colpi di scene interessanti io come lettore non andrò mai a leggere un secondo libro e ovviamente non lo farò perché nonostante ci sono dei dei plot twist alla fine due plot twist davvero scontatissimi uno in particolare è tipo che se lì dici ma dai cioè tu adesso siamo arrivati alla fine del libro e mi stai dicendo questa cosa quando era proprio scontata ma sai quei colpi di scena che dici ok quando succederà questa cosa perché sono cose che un lettore che ormai è navigato diciamo può immaginarsi ma chi anche legge per la prima volta un fantasy sa che o qualsiasi altro libro del genere sa che prima o poi appunto questa cosa che succede a me dal libro verrà riportata alla fine cioè sono tutti colpi di scena tremendamente basici scontatissimi che non esaltano nemmeno cioè quando arrivi lì dici ok sì potrebbe essere un punto di vista interessante per il seguito ma anche meno una delusione su tutti i fronti non mi è piaciuto niente di questo libro a parte il prologo e una parte iniziale perché la parte iniziale diciamo che ci sta e vengono raccontate determinate cose che comunque rendono interessante il libro è anche scritto bene però poi la narrazione è fallaggio in tutti i punti della storia non è tenuta in piedi da veramente niente anche il personaggio di Atu per quanto inizialmente mi piaciucchiava poi diventa proprio una macchietta diventa proprio l'ombra di se stesso un personaggio davvero lasciato andare questo è tutto quello che penso sul re delle ceneri un libro molto insoddisfacente un libro che non mi è piaciuto assolutamente che non vi consiglio è un libro che è tutto quello che un fantasy non dovrebbe essere non riesco davvero a trovare un punto a favore di questo libro anche perché comunque il mondo il world building è inesistente non sappiamo assolutamente niente appunto c'è questa dinastia appunto ci sono semplicemente queste dinastie che non vediamo assolutamente mai mai il sistema magico non è costruito semplicemente ce ne viene dato un accenno alla fine da uno dei plot twist ma anche qui è tutto inesistente non c'è una caratterizzazione di niente assolutamente niente ha fatto acqua da tutte le parti non so come sia riuscito a leggermelo tutto perché sembra piccolo ma comunque è scritto anche abbastanza piccolo quindi sono 400 pagine io non so come sia riuscito ad arrivare alla fine cioè mi faccio una pacca sulle spalle da solo perché non so che cosa mi abbia portato avanti probabilmente lo stedio di scrittura dell'autore che comunque nonostante piccole cose non mi è dispiaciuta però no un libro veramente deludente veramente molto molto deludente mi dispiace ma non non riuscirò mai a leggere il secondo cioè sono arrivato al stento alla fine di questo primo il secondo per me è qualcosa che no no inammissibile no ok passiamo alla seconda nota dolente di questo wrap up e sto parlando del canto dell'usignolo di lian herne ovvero il primo libro della saga degli otari primo libro di una trilogia young adult fantasy pubblicata da edizioni o che mi ha mandato una copia del romanzo per potervene parlare l'ho letto perché da come mi era stato presentato questo libro mi aveva incuriosito tantissimo il canto dell'usignolo parte da presupposti che mi avevano particolarmente ritrizzato perché ci troviamo in un giappone medievale in cui vediamo la storia di Takeo questo ragazzino che è cresciuto in un villaggio relativamente pacifico ma poi un giorno improvvisamente questa pace questa vita tranquilla che lui e la sua famiglia hanno sempre condotto viene improvvisamente interrotta da un massacro un massacro da parte di idia ovvero uno dei signori dei vari clan dell'impero però Takeo contrariamente alla sua famiglia riesce a salvarsi a salvarlo è il nobile Shigeru che fa parte del clan agli otari e Takeo quindi verrà trascinato in questa guerra tra clan in cui comincerà a domandarsi chi è realmente da dove derivano questi poteri che sta sviluppando ho partito con delle belle aspettative per quanto riguarda questo libro perché l'idea che l'autrice vuole mettere in atto mi piaceva davvero tanto non è niente di originale per carità perché soprattutto oggi come oggi libri ambientati in un Giappone mediovale mitologico come viene descritto ormai non è qualcosa più di nicchia ma è comunque un'ambientazione che viene sfruttata moltissimo anche il caso di The Poppy War quindi queste ambientazioni che prendono spunto ispirazione da culture asiati che comunque ormai sono alla base di tantissimi romanzi però comunque resta qualcosa che a me piace è una cultura che mi affascina tantissimo e quindi rivederla in questo caso mi interessava particolarmente il fatto è che questo libro secondo me ha tantissimi punti deboli ci sono poche cose che mi hanno convinto partendo dai personaggi i personaggi non mi hanno coinvolto emotivamente nessuno di loro Takeo in particolare che dovrebbe essere appunto il protagonista è un personaggio che ho trovato particolarmente freddo nonostante la sua sia una storia di vendetta e le storie di vendetta su di me hanno un certo non so che cioè riescono sempre a prendermi tantissimo non che io mi immedesimo in questi personaggi perché non ho aspirazioni di vendette future però comunque le storie di vendetta di questi personaggi moralmente grigi che hanno appunto una morale particolare mi affascinano sempre tantissimo riescono sempre a coinvolgermi che è invece un personaggio che mi ha lasciato molto freddo l'ho trovato ispito come tutti i personaggi all'interno di questo di questo libro c'è qualcuno che spicca veramente anche il cattivo della situazione l'ho trovato una figura molto fine a se stessa cioè il cattivo da sconfiggere quella figura perfida e maligna che però comunque non ha un fascino particolare non ha punti apprezzabili niente di niente è semplicemente la figura cattiva che il protagonista comunque l'eroe deve in qualche modo sconfiggere che poi eroe è un po' sbagliato perché Takeo appunto non è sicuramente l'eroe tipico dei romanzi anzi tutt'altro l'altro problema è il Giappone che io ho sentito veramente molto molto poco se non fossero per i nomi molto particolari difficili da pronunciare difficili da ricordare e qualche altra cosa all'interno del romanzo è sinceramente un'ambientazione che io non ho sentito particolarmente se Takeo avesse avuto un altro nome che ne so Ettore poteva essere qualsiasi altra ambientazione e non avrei appunto pensato di trovarmi in un Giappone medioevale assolutamente no però questa è una sensazione che ho avuto io poi non so l'altra cosa per cui ho provato un fastidio tremendo è l'amore a prima vista cioè il colpo di fulmine che arriva così improvvisamente in una riga questi in una riga si innamorano vi giuro c'è il colpo di fulmine proprio quello che dici c'è Cupido lassù che tira la freccia in un secondo questi si innamorano si girano amore eterno sono costantemente alla ricerca disperata l'uno dell'altro ma non si conoscono non sappiamo nemmeno il loro nome eppure sono innamorati sono giurati amore eterno nemmeno si sono parlati ed è una cosa che non ho veramente compreso cioè per quale motivo sia successo ma davvero succede tutto in una riga questi si innamorano con lo sguardo cioè nemmeno ho fatto in tempo a girarmi che io mi sono innamorato cioè come? perché è come se non bastasse questo colpo di fulmine resta un colpo di fulmine perché la loro relazione sostanzialmente non progredisce mai per arrivare poi a una fine con un momento davvero molto molto discutibile fatto ribrezzo perché era fuori contesto non c'entrava niente se vogliamo definirlo diciamolo è un momento veramente cringe che davvero no non capisco perché l'autrice abbia deciso di mettere una cosa del genere in un momento del genere soprattutto perché succede questa cosa che ovviamente non vi dirò perché spoiler in un momento in un contesto cioè che dici ma no cioè perché è come se io ho esempio che non c'entra assolutamente niente vado a un funerale e comincio a bermi che ne so una tazzina di tè davanti alla vara cioè che dici ma perché lo sta facendo cioè non è il luogo adatto non è il momento adatto soprattutto mio Dio se ci ripenso mi viene la pelle d'oca ve lo giuro mi viene la pelle d'oca mi viene la pelle d'oca ma va bene fosse solo questo altro problema enorme del libro forse è questo uno dei problemi centrali è la narrazione perché lo stile di scrittura dell'autrice non mi è dispiaciuto anzi mi invogliava in qualche modo alla lettura provavo sempre quella curiosità nello scoprire che cosa sarebbe successo dopo però il fatto è che questa narrazione è semplicemente un racconto della storia di Takeo ed è un racconto che secondo me soffre della mancanza di pathos di emozione di qualcosa che spinga in qualche modo tutta la storia non l'ho sentito quasi escluso è come se fosse proprio una storia priva di qualsiasi sentimento che venisse semplicemente raccontata senza che il lettore potesse in qualche modo affezionarsi ai personaggi alla storia alla vicenda personale di Takeo e tutto e tutto il resto mi sono trovato molto fuori dal libro da tutto quello che ci veniva raccontato era semplicemente una storia appunto che sì era anche interessante ma che purtroppo non mi ha preso come avrei voluto non ci sono dei punti che effettivamente mi hanno convinto all'interno di questa storia ok forse la trama non mi è dispiaciuta ma non è una di quelle trame che mi sono rimaste impresse non è una di quelle trame originali ho fatto anche un po' di fatica in alcuni momenti a capire che cosa stesse succedendo effettivamente ma semplicemente perché ero poco interessato a quello che stava succedendo a una certa ero davvero poco interessato se inizialmente la lettura mi invogliava in qualche modo andando avanti la storia secondo me soffre tantissimo non riesce secondo me a ingranare appieno questo secondo me come vi ho detto è colpa anche di questa narrazione troppo estraniante davvero troppo estraniante avevo apprezzato inizialmente molto il personaggio di Kaede che è il personaggio femminile e l'amore di Takeo però anche lì andando avanti è una figura che si ripete situazioni che si ripetono e mi ha un po' deluso è un po' come il discorso anche qua che facevamo le vede le ceneri non c'è mai un punto di svolta all'interno della storia di un personaggio e questo rende un po' la situazione stagnante mi è dispiaciuto molto perché se devo essere sincero avevo delle grandi aspettative verso questo volume ovviamente non mi aspettavo il capolavoro della vita però comunque l'ambientazione la storia questa trama mi avevano incuriosito tantissimo anche questa cosa dei clan che io purtroppo non ho sentito all'interno del libro cioè sì questa inimicizia molto forte è vero c'è si sente ma non è qualcosa che mi ha provocato particolari emozioni davvero mi è dispiaciuto molto non so se leggerò il secondo forse per dargli una seconda possibilità potrei farlo però non lo so anche il finale non mi ha detto assolutamente niente cioè per me poteva rimanere un libro autoconclusivo e stavo bene così non so quanto effettivamente ci sia bisogno di un seguito per questo libro devo essere sincero devo ammettere però che ci sono verso il finale dei colpi di scena molto belli mi sono piaciuti particolarmente li ho apprezzati perché non li avevo visti semplicemente arrivare quindi danno alla storia forse quel tocco che mancava e che mi hanno fatto un po' ricredere e è il motivo forse per cui non gli ho dato semplicemente una stellina perché se no non trovo veramente altro mi dispiace tanto però questo è il mio parere personale e sincero e probabilmente spero di essere una voce fuori dal coro però il canto dell'usignolo per me è stato una grande delusione abbiamo finito oh mio dio questi ultimi minuti mi hanno provato particolarmente davvero mi hanno provato tantissimo abbiamo tutto quanto e quindi vi aspetto nei commenti fatemi sapere se anche voi avete letto alcuni di questi libri che cosa ne avete pensato in modo particolare che cosa avete letto voi a gennaio vi aspetto nei commenti sono molto molto curioso e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti